Aumenti a mensa e trasporto scolastico, ad annunciarli la sindaca Cecilia Francese nel corso della puntata di Linea Comune andata in onda ieri. La decisione ha voluto precisare la francese e legata ad un obbligo di legge. E la legge mi impone di essere rigida, noi abbiamo la Corte dei Conti che ci sta addosso, come a che, insomma noi abbiamo, lo dico che oggi siamo andati in giunta, abbiamo aumentato di 50 centesimi il buono pasto, 50 centesimi. Mi immagino che domani già usciranno i giornali, sono aumentate le tariffe, ma per obbligo di legge, perché la Corte dei Conti dice come mai tu non aumenti le entrate, fai conto che noi copriamo del 75% quello che è il costo reale dei pasti e quasi niente recuperiamo sul trasporto. Anche lì c'è un lieve aumento, ma il trasporto ci costa 190 mila euro l'anno senza contare le accompagnatrici e ne si è enorme, ricaviamo il 10% neanche. Quindi devi far vedere che un po' aumenti, ma per obbligo di legge, insomma perché abbiamo la Corte dei Conti che dice che devono aumentare le entrate e non è possibile. Quindi domani non leggete i giornali, è aumentato, è aumentato tutto. Vabbè, ma di quanto è aumentato? Ma il trasporto 5 euro al mese per quelli che vengono, insomma per l'utilizzo e il buono ticket 50 centesimi a pasto. Durante l'intervista la sindaca ha anche replicato al consigliere Baldi sulla questione dei casoni d'oria. Il problema non è comprarli, il problema è mettere in sicurezza e poi aspetti per ristrutturarlo. Qualcuno addirittura si è inventato, e io dico studiate, studiate che cosa sono i PICS. Si è inventato che io con i soldi dei PICS metto a norma, posso ristrutturare i casoni. Lo diciamo per l'ennesima volta, i PICS non prevedono la ristrutturazione. Grazie a tutti.